40 giorni già nei mesi scorsi sono stati risultati importanti con tante realtà coinvolte in tutta Europa e in tutto il mondo. Sì, siamo stati in tutta Europa, in tutto il mondo ancora no, in Germania, in Polonia, in Inghilterra, in Spagna e Portogallo. I ragazzi sono stati presso e sono ancora presso aziende molto importanti, dopo vedremo il collegamento via Skype, la Ferrero, le Generali, l'Autogrill Spa, diverse Camere di Commercio internazionale, la Camere di Commercio Espano-Cinese, insomma, stanno facendo delle ottime esperienze e molti di loro hanno già ricevuto proposte di lavoro per il post-tirocino. C'è un ragazzo, Walter Romano in particolare, che ha ricevuto un contratto che comincerà proprio con la fine del suo tirocino. Insomma, le persone preparate riescono ad imporsi anche se vengono dal meridione, anche e soprattutto? Diciamo che il meridione ha una marcia in più di solito e non una marcia in meno. In Europa c'è voglia d'Italia. Io sono tornato la settimana scorsa dalla Polonia e c'è un amore per gli italiani e per i nostri ragazzi che non ha pari. Il terreno è fertile in Europa e quando i semi sono buoni fioriscono e crescono delle piante molto belle e molto robuste e quindi i nostri ragazzi quando hanno l'opportunità di andare fuori molto spesso hanno successo perché hanno le caratteristiche, i requisiti, il carattere per poter fare bene.